buongiorno a tutti ragazzi rapier giovanni salimbeni e benvenuti nel mio canale youtube dedicato al mondo degli strumenti ottici oggi vorrei presentarvi in anteprima uno dei due telescopi per le osservazioni solari che mi sono stati forniti da origa si tratta del acuter elite finex 40 solar prominence ossia la fenice d'elite diciamo così per le protuberanze solari era versione da 40 mm come vedete in dotazione è presente il manuale per le istruzioni e il manuale per l'installazione del red dot quindi io direi magari prima di vedere insieme un attimo il manuale vorrei ricordarvi che questo telescopio solare costerà 1199 euro e dovrebbe arrivare presso i magazzini di origa a marzo del 2025 quindi quella che sto facendovi vedere è proprio un anteprima presumibilmente qualcuno ha potuto vederne un esemplare in fiera cesena contenuto quindi accessori come utilizzare il telescopio solare utilizzo generico del telescopio altri insomma altre impostazioni vedete filtro solare e anello di connessione la slitta per il montaggio dopo riguardiamo insieme il cercatore solare eccetera in dotazione è presente uno zoom 516 per un adattatore per smartphone tra poco vi farò vedere anche perché è la prima volta che li vedo anch'io nel senso che ho appena aperto la scatola questa mattina allora qui spiega il primo utilizzo l'oculare rimuovere il filtro l'utilizzo del cercatore solare per inquadrare il sole con sicurezza e poi l'estrazione del tubo focheggiatore per arrivare comunque al punto di fuoco per vedere il sole poi ovviamente si dovrà regolare in parte al vostro in proporzione al vostro visus il focheggiatore poi qua spiega il filtro delle protuberanze la definizione quindi della visibilità delle protuberanze può essere regolata ruotando il knob quindi la ghiera ok del filtro che si trova nella parte frontale del tubo ottico dopo la vediamo comunque questa qua qua spiega anche come ruotare l'oculare zoom qui proprio per i neofiti eccetera allora i dati tecnici sono apertura del filtro solare 40 mm lunghezza focale del tubo ottico 400 la banda è inferiore uguale a 0,6 armstrong e l'ingrandimento l'intervallo compreso tra 25 e 80 per se togliete i filtri si può utilizzare come un semplice rifrattorino acromatico qui vengono proposti i dati tecnici larghezza 128 molto compatto lunghezza 358 e il telescopio ha un'apertura di 80 mm lunghezza focale di 400 e quindi un rapporto focale f5 e l'ingrandimento 25 80 quindi se volete potete utilizzarlo come rifrattorino per il cielo profondo e anche magari per guardare un po il panorama terrestri ovviamente con l'utilizzo di un prisma raddrizzatore in questa parte vi spiega l'utilizzo della regolazione delle viti di regolazione per migliorare la fluidità del tubo focheggiatore e basta invece quest'altro vediamo questo breve manuale di installazione delle red dot ok allora iniziamo a vedere che cosa c'è all'interno parto dagli accessori qui abbiamo un adattatore universale per smartphone poi magari ci sarà modo di provarlo vi ricordo che questa è la prima parte della video recensione perché poi seguirà una seconda parte dove darò le mie impressioni personali sul campo e magari vi farò vedere qualche video qualche filmato tenuto se riesco collegando l'iphone va bene questa è la modalità di montaggio dell'adattatore per smartphone qui abbiamo a vedete come vi dicevo potete utilizzarlo come telescopio classico quindi non da utilizzare per le osservazioni solari questo è un classico prisma la 31 8 questo è un classico red dot che potrete utilizzare ovviamente non per osservare il sole e poi in dotazione è presente un oculare zoom 16 5 mm la fattura non è ovviamente c'è eccellente non è uno zao per intenderci però per iniziare come dotazione l'avete completa e qua ci sono i tappi allora vediamo un attimo il ragazzino lo tiriamo fuori piano piano vediamo un po di curiosare allora questo qua è il cercatorino solare lo vedete che comunque già stato allineato in azienda questo è il diagonale solare da utilizzare unicamente per le osservazioni solari come vedete è presente anche un filtro che presumibilmente dovrebbe essere un filtro IR ricordatevi di montarli tenerli sempre montati questo è il focheggiatore non è demoltiplicato ovviamente vediamo l'estrazione il tubo focheggiatore ecco qua allora vedete che come c'era scritto nel manuale questo dovrebbe essere il punto di fuoco poi da qui in base al vostro visus potete regolare comunque di corsa ce n'è a sufficienza qui c'è l'altra slitta l'attacco per il red dot classico questa è una piccola slitta compasso vixen gp ma teoricamente avendo le filettature da un quarto potete anche installarlo sul vostro treppiede fotografico alla bisogna vediamo adesso di vedere il filtro che vi ricordo è la 40 mm di diametro spero che si veda eccolo qua vediamo se riesco a mostrarlo ok acuter 40 mm solar system certificazioni da qui potrete modificare la banda per una maggiore definizione delle protuberanze qualora doveste voler utilizzarlo come classico strumento da osservazione è soltanto sufficiente e freddo io le mani schiacciate è soltanto necessario rimuovere il filtro e godervi l'apertura oltretutto mi pare che abbia un trattamento multistrato antiriflesso guardate l'apertura da 80 mm ricordandovi di utilizzare il red dot e il prisma diagonale classico ragazzi che altro dirvi io termino qui questo unboxing inizierò a testarlo nell'osservazione solare presumo che appunto come vi anticipavo vi parlerò delle mie impressioni proprio nell'osservazione e poi se riusciamo colleghiamo con l'adattatore quello di fornito di serie lo smartphone oppure quell'adattatore kowa che comunque utilizzo spesso per vedere in parte la qualità per oggi termino qui vi aspetto come sempre su questo canale ci vediamo anche su binomania e su tutti i social associati e mi raccomando ragazzi ve lo ripeto un'altra volta il 90 per cento di voi non si iscrive e sono contentissimo che vedete i video però per voi veramente un attimo schiacciare sul pulsante iscrizione e sulle notifiche e ovviamente il canale gratuito potete attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e in più facendo aumentare le reali visite del mio canale con le iscrizioni mi darete la possibilità di poter continuare a recensire tanti prodotti un caro saluto a tutti voi da per giovanni salimbeni ringrazio origa per la disponibilità di questo grande anteprima ciao a tutti